Ciao a tutti ragazzi, sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi voglio presentare Rogue Trader, gioco di ruolo in ambientazione Warhammer 40.000 della Fantasy Flight Games e portato in Italia dalla Giochi Uniti, che io ringrazio di cuore per avermi affetto questa copia per la recensione. Grazie ragazzi e sempre un grandissimo piacere e un onore collaborare con voi. Ve ne parlo a breve, dopo la sigla. Rogue Trader, come detto appunto in questa edizione italiana della Giochi Uniti, è un gioco di ruolo uscito da qualche anno. In ambientazione Warhammer 40.000, dove andrete ovviamente a vestire i panni, poi nel corso del video vi faccio vedere un po' il manuale di sfondo, di un Rogue Trader, di un mercante corsaro. I mercanti corsari nella Lordi Warhammer 40.000 sono delle specie di, che poi andando a citare il corsario sembra un po' un pirata, ma sono tutto forché quello, sono dei capitani spaziali, di navi spaziali, a volte anche di flotte, comunque nel 90% dei casi, anzi 99% dei casi di famiglie nobili, che hanno un foglio di via riconosciuto direttamente dalla Deptus Terra e firmato praticamente dove possono andare in giro per i settori, per ovviamente la galassia e anche i sistemi solari conosciuti e colonizzati dall'Imperium, facendo un po' da apripista o se vogliamo anche emissari dell'Impero. Sia chiaro non sono pirati, per quanto alcuni lo sono diventati, ma sono completamente fuori legge e distaccati dall'Imperium. hanno diciamo un foglio di via come esploratori, navigatori, commercianti e anche alla fin fine soldati, perché nel momento della battaglia il foglio di via dice che possono essere richiamati, devono mettere le loro navi, magari c'è un mercante corsario che ha una flottiglia di 20 navi, può essere richiamata a servire l'Imperium e l'Astra Militarium, quindi in quel caso lì non si possono tirare indietro perché fanno parte dell'Imperium come tutti, però diciamo che hanno questo foglio, carta bianca, che le dà la possibilità di commerciare ed esplorare. E questo gioco è molto bello nel classico regolamento, questo qui è un po' il regolamento del vecchio Martelli da Guerra o anche del nuovo Rammer Fantasy, dove si va a tirare un dado e si va a vedere una caratteristica che è collegata comunque a un'abilità. E bisogna fare ovviamente un risultato inferiore a quello che è appunto la somma di due e poi ovviamente il Dungeon Master potrà andare a mettere bonus nel caso l'azione sia facile o malus nel caso l'azione sia difficile. A livello di regolamento non è complicato, forse c'è un pochino di cose da tenere a mente perché in questa versione qui rispetto a quella magari più nuova che è uscita ora dalla Nick Games, Wrath & Glory, ma è completamente un altro gioco, perché lì andate a interpretare qualsiasi cosa, Space Marine, Adeptas Ororitas, qui no, qui fate parte dell'equipaggio della nave di un mercante corzaro, quindi qui non potrete fare una start, potete fare o il mercante corzaro, o l'assassino del culto Callidus, o il Navigator che è quello che segue l'Astronomican, il fare imperiale, oppure potete fare l'astropate. Comunque tutte cose legate appunto all'equipaggio a bordo di una nave. Nave che ha una scheda a parte, quindi le schede sono una per il vostro personaggio, più vabbè tutto il gruppo, e una per la nave in comune, almeno che non abbiate poi nel corso del gioco una flottiglia, e quindi andrete a inserire un pochino più di navetti, ma le altre saranno delle specie di NPC, non ci sarà bisogno di fare una scheda vera e propria della nave. Si parte con la scelta del background, si va a scegliere oppure anche a tirare, ed è molto completa a livello di lore, questo manuale, metà manuale di lore, quindi è uno spettacolo a sud, perché vi racconta tutta l'ambientazione di Warhammer 40.000, prima della terra dall'impero Nihilus, quindi della nuova ambientazione di Warhammer 40.000, e prima della crociata in Domitus con risveglio di Robot Gilliman, quello che abbiamo visto appunto è una nuova ambientazione, questa è leggermente prima, diciamo come si dice in gergo, 40esimo millennio e 41esimo millennio dall'altra parte, comunque l'ambientazione è sempre quella di Warhammer 40.000 che abbiamo conosciuto nel corso degli anni, i nemici che si vanno a fronteggiare ovviamente sono sempre gli stessi, magari Eldar, Orki, Tirani, la minaccia di Necron, che qui non è presentissimo ma c'è comunque, e più Artirok Trader, perché ve l'ho detto, tanti mercanti corsari si distaccano completamente dalla via, prendono questo foglio di via, lo distruggono, si fanno la loro frotta di magari 50-100 navi, e fanno il bello e il cattivo tempo addirittura andando a bombardare e conquistare i domini dell'Imperium e dell'Imperatore. Regolamento molto semplice di gioco, ve l'ho detto, si impara facilmente, forse la scheda che ora vi faccio vedere è leggermente complessa, perché comunque non difficile, però ci sono tante cose da segnare, per me un GDR è nome, cognome, classe, razza, punti esperienza, equipaggiamento, scoperte, amici, nemici, pregi e difetti, vabbè ovviamente una piccola parte di abilità e una di talenti, qui ci hanno messo un pochino di cose in più, però è normale ragazzi, perché dovete, siete l'equipaggio di una nave, quindi come un po' in Coriolis, o Corioli che dir si voglia, della Weird, se non fate la nave, avete distrutto il 50% del gioco, se in Forbidden Lens della Freya Liga non fate la scheda per la vostra fortezza e il keep, avete elevato il 50% del gioco, sono tratti fondamentalmente molto importanti, e anche qui un Rogue Trader, che è un pirata spaziale, ha bisogno di una nave, non potete dargli una nave così casualmente, ma deve essere costruita piano piano, pezzo per pezzo, modulare, per ogni modulo, perché la vostra nave sia unica, e appunto come voi avete deciso che sia, e le avventure che potrete vivere, c'è tutta quanta la mappa dell'Imperium, per quanto loro vi consigliano di iniziare in un settore particolare, che è normale, non ti posso dare, già dirvi ambientatelo nel sistema solare nostro, con Marte, Saturno, Venere, Giove, già sarebbe un po' troppo spiazzante, ve lo fanno ambientare in un sistema con due o tre pianitelli, qualche luna, e qualcosa da scoprire, quindi poi alla fin fine tanto, guarda, l'ambientazione di Warhammer 40.000 è talmente ampia, che potete tranquillamente inventarvi le cose di sana pianta, prendete una mappa, vi inventate un settore, non siamo su un pianeta Terra, che dopo un po' le ose da inventare e le nazioni finiscono, per quanto si potrebbe anche lei andare a scavare sotto Terra e inventarsi qualcosa, siamo in un universo completo, siamo in una galassia, nella Via Lattea, quindi ha voglia te di inventare cose. Quindi, tirando le somme, ve l'ho detto, regolamento facile, però c'è da farci almeno una partita di prova, non è complicato ragazzi, ve lo direi tranquillamente, è facilissimo, però c'è da rodarlo un attimino, a livello di lore, di manuale, come impaginato e tradotto, veramente, non scherzo, non ci ho trovato un errore di battitura, non ci ho trovato una virgola fuori posto, un errore di traduzione fatto veramente da paura, e la Giochi Uniti ha fatto un lavoro disumano. Se lo volete ordinare direttamente dal sito della Giochi Uniti, vi lascio il link qui sotto, il primo link è in descrizione, io ringrazio di cuore la Giochi Uniti per avermi offerto questa copia più di Rogue Trader, ed è veramente un gioco spettacolare. Ah, altra cosa, sul sito della Giochi Uniti trovate anche tanti manuali, se non erro, tre mi sembra, tre o quattro, di moduli avventura, o anche moduli d'ambientazione, che vi espandono un po' la lore, completamente tradotto in italiano, quindi andate a vedere perché Rogue Trader, se cercate un gioco in ambientazione Warhammer 40.000, volete un po' come Alien, far tutti parte dello stesso equipaggio e della stessa nave, ragazzi, è perfetto, e poi metà libro come il nuovo regolamento di Warhammer 40.000 è di lore, vi spiega tutto, forse anche troppo e di più. Quindi passate a pieni voti, gioiello disumano, non vedo l'ora di farci qualche partita online con Roll20, o magari Tabletop Simulator, e fatemi sapere un po' cosa ne pensate. Ciao ragazzi, alla prossima!